ciao signori sono sandro segreto e rappresento la mio oggi voglio parlarvi delle cornici dura frame un bel prodotto nuovo in nuova veste per le tue nuove vetrine queste qua sono le cornici della dura frame hai queste bellissime cornici trasparenti bifronte e soprattutto con una cornice magnetica sia per il tuo uso delle informazioni aziendali di soccorso che di tutte le tue informazioni del tuo negozio sconti scontistiche preparazioni vision informato dalla 6 al 70 10 chiamaci e noi ti daremo informazioni mio società servizi il tuo rappresentante al tuo servizio quando hai bisogno